Siamo alla Feltrinelli dove viene presentato un opuscolo, un librettino, manifesto per il reddito di base. Stefano Venti. Siamo di fronte a un passaggio che è politico molto significativo perché il governo attuale ha posto nel suo contratto l'istituzione del reddito di cittadinanza. Il reddito di base è altra cosa, allude al reddito di cittadinanza ma ha una carica più forte perché svincola il diritto al reddito delle persone, di tutte le persone, dalla questione del lavoro. Perché si dice che le mutazioni del modo di produrre e di riprodurre la società ormai sono talmente diffuse, non più collegate esclusivamente nel luogo di lavoro ma nella società stessa, che tutti siamo i soggetti in questo capitalismo delle piattaforme digitali, soggetti che producono valore. Ma spesso, inconsapevolmente e quasi tutti, nessuno escluso, lo fa gratuitamente. In un mondo in cui ormai la produzione dei beni, della ricchezza del reddito è cresciuta a dismisura e si è equamente ridistribuita. Tutti potrebbero vivere con le condizioni essenziali soddisfatte, invece che vedere che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, appunto il reddito di base diventa un luogo, uno strumento determinante e fondamentale per cambiare la società, per cambiare il mondo e per renderlo più giusto.